Duplice infanticidio, la mamma assassina muta in cella, lunedì forse dal giudice. Il padre, non la vedo da tre anni. Politica, il presidente della provincia di Sabatino riprende D'Alfonso, non ha avuto garbo istituzionale. Sanitopoli condanna di mezzata a quattro anni e due mesi per l'ex governatore del Turco. Viabilità alla terza rampa dello svincolo dell'8-0 si farà, lo assicura l'ANAS. Prati di Tivo, la gestione degli impianti va al consorzio Prati & Co, di cui è capofila la Siget. Pineto, una pista ciclabile non soltanto sulla costa ma anche verso il casello dell'autostrada 14. E per lo sport calcio nel Teramo, che domani gioca a Rimini, ci sarà anche Brugaletta. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Apriamo il nostro telegiornale con la giudiziaria, con Sanitopoli. In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 22 luglio del 2013, la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato oggi a quattro anni e due mesi di reclusione l'ex presidente della giunta regionale abruzzese Ottaviano del Turco, imputato nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese. Il già ministro delle finanze e presidente della commissione antimafia, arrestato il 14 luglio del 2008 e accusato di aver preso tangenti in cambio di favori dall'ex patron della clinica privata Villa Pini di Chieti, Enzo Angelini, in questo processo imputato e allo stesso tempo parte offesa. In primo grado l'ex governatore abruzzese era stato condannato a nove anni e sei mesi. La Corte, presidente Luigi Catelli, all'Atere Luigi Cirillo e Armanda Servino, ha dunque accolto parzialmente la richiesta avanzata dal PG Ettore Picardi che per l'ex presidente aveva chiesto sei anni e sei mesi. Il processo di primo grado si era concluso con nove condanne, dodici assoluzioni e tre casi di intervenuta prescrizione. Per questa inchiesta su presunte mazzette nella sanità privata del Turco che ha sempre respinto ogni accusa, finì in carcere a Sulmona per 28 giorni e trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. Dopo questa vicenda si dimise e in Abruzzo si tornò alle urne con la vittoria del centrodestra guidato da Gianni Chiodi. Cambiamo argomento, ci occupiamo di montagna. Sarà il consorzio Prati & Co di cui è capofila la Siget a gestire per i prossimi cinque anni gli impianti di risalita dei Prati di Tivo. Due le offerte pervenute alla Gran Sasso Terramano, la seconda formulata da un altro consorzio di operatori, sempre dei Prati di Tivo. Il consorzio vincente Prati & Co è formato oltre che dalla Siget, dalla Gran Baita, dalla Scuola Scigran Sasso d'Italia, dall'agriturismo Prati di Tivo, dal noleggio bici Mountain Planet dei Prati, dalla dimora del Cavaliere di Pietracamela e dall'antica Locanda pure di Pietracamela. Soddisfatto l'amministratore unico della Gran Sasso Terramano, Marco Bacchion. Peccato ha detto solo per non aver visto tutti uniti gli operatori dei Prati. Ha giudicata la gara per la gestione degli impianti di risalita dei Prati di Tivo. È soddisfatto l'amministratore unico della Gran Sasso Terramano Bacchion? Sì, precisiamo innanzitutto una cosa, che si tratta di una giudicazione provvisoria, come specifica bene il bando. E ha vinto? Dunque, ha vinto un consorzio di nuova costituzione che vede come azionista di maggioranza la SIGET, che è l'attuale gestore degli impianti dei Prati, ditta che noi conosciamo per rapporti pluriennali di collaborazione e che riteniamo, da un punto di vista professionale, sia assolutamente congrua rispetto a quelle che sono le esigenze della stazione. In quanti hanno partecipato? Ci sono state due offerte. C'è stata una seconda offerta, sempre di un consorzio locale, che era il vecchio consorzio degli albergatori. I termini dell'accordo quali sono? I termini dell'accordo sono un contratto quinquennale che prevede un canone annuo di 156 mila, ricordo che il prezzo base d'asta era 150 mila euro più IVA, oltre a una quota premiale che scatterà qualora gli incassi complessivi annuali dovessero superare determinate soglie. Sarà una percentuale a crescere. È previsto l'obbligo della manutenzione ordinaria e programmata in testa al soggetto gestore. Sono previste delle azioni di sviluppo per quanto riguarda la diffusione dell'immagine della stazione. È la prima volta che è praticativo a un gestore per cinque anni. Noi ci ricorderemo... Già per questo lei è soddisfatto. Sì, già per questo noi siamo soddisfatti. Altra soddisfazione deriva dal fatto che si tratta di operatori locali. Un rammarico purtroppo c'è. Avremmo gradito che invece di due consorsi, i prati si fossero uniti, gli operatori si fossero uniti in un unico consorzio. Avrebbe dato un segno di compattezza del territorio che è un obiettivo che da tanti anni stiamo perseguendo ma che purtroppo non riusciamo ancora ad ottenere. Cambiamo argomento. Non ha gradito né la forma né la sostanza il presidente della provincia di Teramo di Sabatino intervenuto sull'annuncio dei fondi per la viabilità provinciale che il governatore D'Alfonso ha fatto nella sala consigliare del comune di Teramo. Il presidente di Via Miglia è intervenuto sullo sgarbo istituzionale e ha precisato anche il perché in questa intervista. Vediamo. È scontro aperto con D'Alfonso? No, assolutamente no. Non è scontro ma è mettere i puntini sulle I, sulle rispettive competenze. Il governatore è assolutamente di alto livello quando si tratta di avere delle idee, dei progetti e anche trovare risorse. Ma a lei cosa non è piaciuto di D'Alfonso? La forma o la sostanza? Entrambe. Nel senso che non si approva un progetto esprimendo parere favorevole su progetti che riguardano viabilità provinciale. Seconda cosa, la struttura delle progettazioni, ma anche delle semplici idee su un determinato territorio, se quel territorio rientra nell'ampito di quello che è di mia competenza, lo discute, lo decide con me. Il fatto che abbia deciso comunque di presentare questi progetti e questi finanziamenti nella sede del comune di Teramo, nel sindaco di Teramo, dove governa il centrodestra, magari forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il base? No, io penso che lui lavori così tanto che molto probabilmente a volte perda di vista il fatto che anche la forma diventa sostanza, lo dice lui. E quindi se si presentano situazioni che riguardano la provincia o comuni della provincia, il luogo istituzionale è questo qui. Io non sono per maloso, non me ne faccio un cruccio, però se si fa un ragionamento sulla viabilità provinciale, la si discute con me. A meno che la regione non voglia fare diversamente, si prende le strade, gli fa la manutenzione e si prende anche la responsabilità, sia di tipo politico, ma anche proprio giuridico, quando succede qualcosa o quando qualcuno si lamenta. D'Alfonso le ha già risposto? No, ma è una dialettica, non è uno scontro. Io ho soltanto tenuto a precisare che siccome noi ci stiamo lavorando su un rilancio di questo territorio, e per me la città Valfino è un esempio addirittura da seguire. Cosa si aspetta da D'Alfonso? Mi aspetto che il rassetto istituzionale della regione Abruzzo tenga conto degli enti di Aravasta. Cambiamo di nuovo argomento. La cronaca comparirà lunedì mattina dinanzi alla Croncourt di Bradford con la pesante imputazione di duplice omicidio pluriaggravato Samira Lupidi, la 24enne teramana di Martinsicuro, che lo scorso 17 novembre ha ucciso a colpi di coltello le due figliolette Evelyn di tre anni e Jasmine di un anno. Il confronto è stato fissato dalla pubblica accusa, ma non è ancora certo che la donna sarà nelle condizioni fisiche e mentali per affrontare un'udienza di incolpazione. Un primo rinvio c'è stato infatti ieri perché, come ha riferito il legale della donna Alison Todd, la giovane mamma è sconvolta, invitando la Corte a comprendere le sue ragioni. Non c'è soltanto la famiglia inglese della donna Bradford, alle porte di Leeds, 300 km a nord di Londra, ad essere sconvolta da quanto accaduto. A Martinsicuro, nella zona tronto al confine con il territorio marchigiano di Portodascoli, nella frazione Castellano, chi la ricorda vivace e sempre sola con i due fratelli, ha difficoltà a capire cosa possa essere successo nella mente di Samira. I carabinieri di Albadriatica intanto hanno rintracciato il padre, Dario Lupidi, che vive a San Benedetto del Tronto. Non vedo mia figlia da tre anni, avrebbe riferito. Ha fatto in tempo a conoscere solo la nipotina più grande. Qualche volta il figlio di 19 anni che sta con lui ha avuto contatti con la sorella via Facebook. Per questo il padre sembra non ci siano possibilità di raggiungere la figlia per le difficoltà economiche in cui verserebbe. Nel 2011 la 24enne si era trasferita in Inghilterra. A Bradford viveva con il marito Carl Weaver di 31 anni. Forse tra loro i rapporti erano tesi. Probabilmente anche per questo si era trasferita in una casa di accoglienza per donne. La BBC riferisce che dall'autopsia è emerso che le piccole sono morte a causa di più coltellate. Molti gli abitanti della zona che hanno raggiunto il luogo dell'omicidio e tanti, secondo quanto riferisce la stampa locale, i mazzi di fiori lasciati sul posto. In un biglietto si legge riposate in pace, angioletti, siete in mani sicure, in paradiso. Ancora la cronaca. Roberto Damiani, 40 anni, operaio di penne, morì a settembre del 2014 folgorato da una scarica da 20.000 volt mentre stava lavorando su un traliccio dell'Enel a Castelnuovo Vomano. Una morte per la quale adesso, a distanza di poco più di un anno, la procura di Teramo chiede il rinvio a giudizio per tutti i sette indagati, cinque dipendenti dell'Enel distribuzione e due della ditta per la quale lavorava la vittima, tutti accusati di omicidio colposo. Dalle indagini, secondo l'accusa, sarebbe emerso come la morte di Damiani fu causata da tutta una serie di leggerezza e inadempienze, compresa la sospensione della corrente su un traliccio sbagliato, non quello di pianura Vomano, dove dovevano essere effettivamente sostituiti i pali e dove Damiani fu folgorato. La stessa vittima, secondo le procedure di sicurezza, prima di cominciare le manovre, si sarebbe dovuta accertare dell'assenza di corrente utilizzando il fioretto, operazione che, secondo le indagini, non sarebbe stata eseguita correttamente o addirittura per nulla. Aveva acquistato computer, portatili e smartphone per un importo complessivo di circa 4 mila euro, ma al momento di pagare aveva esibito che il titolare del negozio di Sant'Egito aveva dato per buono, aveva esibito un assegno che aveva dato per buono. Invece, alla successiva verifica in banca, l'amara sorpresa. L'assegno era quasi perfettamente uguale a uno vero, ma era scannerizzato e dunque non solo falso, ma anche finto. Era stato, infatti, acquisito da un carnet contraffatto al momento della compilazione con i dati necessari. Il negoziante si è rivolto ai carabinieri della locale stazione di Sant'Egidio che hanno identificato all'autore, si tratta di un cinquantenne ascolano, che è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata e uso di atto falso. La terza rampa dello svincolo della gammarana dell'8-0 a Teramo si farà. Lo ha assicurato il capo compartimento dell'ANAS per Labruzzo, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo con il sindaco Brucchi su tutti i cantieri di competenza dell'ANAS. Con questa risposta, l'ingegnere mette a tacere le polemiche sull'ipotetica scomparsa dei fondi utili alla realizzazione della terza rampa. Vediamo il servizio. Risposte importanti sono arrivate dal capo compartimento dell'ANAS per Labruzzo, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nei cantieri sul territorio di Teramo insieme al sindaco Maurizio Brucchi. Abbiamo visto un po' tutte quelle che sono le cose fatte, le cose da fare, le cose da completare. Di competenza dell'ANAS. Assolutamente, di competenza dell'ANAS che incidono sul territorio comunale. Siamo stati come primo sopralluogo a Garrano. C'è la ditta che sta facendo i lavori sulla Teramo Ascoli e quindi i lavori devono andare avanti e lì c'era una problematica. C'era la problematica che questa strada di fatto attraversa la frazione a metà e non è possibile che una parte della frazione resti interclusa. Abbiamo affrontato il problema e devo dire che l'abbiamo risolto con una soluzione che fa sicuramente contenti tutti quanti i residenti. Poi da lì siamo andati sull'8.0 e siamo andati a vedere l'area archeologica. Lì c'è da completare l'intervento con la pista ciclopedonale. Poi da lì siamo andati a verificare un altro piccolo intervento che riguarda una zona sotto il Ponte Catena dove l'ANAS ha fatto una nuova viabilità però non ha mai acceso l'impianto della pubblica illuminazione e quel territorio lo richiede. Poi siamo andati sullo svincolo dell'8.0 della Gammarana. Lì ci sono problematiche che riguardano anche la famosa rampa oggetto di discussione e l'ingegner Marasco mi ha confermato che questo problema per lui è già risolto. In che senso? Nel senso che si potrà fare la terza rampa risolverà questa diatriba l'ANAS con la Focetta Autostrade e con il Ministero delle Infrastrutture perché è un problema che devono risolvere loro però anche lì l'ingegner Marasco ha dato una soluzione immediata e questo mi fa piacere perché comunque una volta che saranno poi diciamo come dire messo nero su bianco quello che lui mi ha detto noi potremmo procedere anche alla terza rampa e questa è un'altra bella notizia che mette fine anche a tutte quelle polemiche di un Consiglio Comunale da parte dell'opposizione su questo argomento. Insomma devo dire un incontro assolutamente positivo proficuo sono favorevolmente colpito dall'ingegner Marasco perché davvero mi è sembrato una persona operativa visto il problema ha trovato la soluzione. Non servono le circa 900 firme raccolte dalle consigliere comunali di opposizione Paola Cardelli e Maria Cristina Marroni per sostenere la richiesta di inserimento nel bando della Teramo Ambiente di alcune modifiche in particolare circa l'applicazione della tariffa puntuale. Sindaco e capigruppo di maggioranza Teramani l'hanno respinta. Sentiamo. Il sindaco di Teramo Brucchi e i capigruppo della maggioranza di centrodestra non hanno accolto le proposte formulate dalle consigliere di minoranza Paolo Cardelli e Cristina Marroni e passate attraverso una raccolta di firme circa le modifiche da inserire nella delibera della gara per la scelta del socio privato operativo della Team. Brucchi dopo aver incontrato le due consigliere questa mattina si è visto con i capigruppo di maggioranza per una ulteriore valutazione anche per tributare il giusto rispetto ai cittadini che hanno firmato la petizione. Ma l'esito è stato comunque negativo in quanto si legge in una nota diffusa oggi dal comune di Teramo il contenuto di quanto chiesto con la petizione scrive il sindaco è già parte integrante della delibera approvata lo scorso 27 agosto in particolare per ciò che attiene la sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale è stato ribadito che paiono congrui i 18 mesi indicati mentre risultano incongrui i tre mesi proposti proprio per la complessità della questione. Il lavoro dell'amministrazione prosegue la nota del sindaco di Teramo è stato e sarà comunque sempre teso alla diminuzione della tariffa. Dalle valutazioni politiche si è quindi passati a quelle tecniche e così è emerso che le proposte contenute nella petizione non sono accoglibili in parte perché conclude la nota del sindaco di Teramo la normativa prevede espressamente condizioni diverse da quelle prospettate e in parte perché quanto richiesto è già previsto appunto secondo la maggioranza nella delibera stessa. Gli strumenti economico-finanziari per sostenere le attività degli assidi di Teramo ci sono ma prima di arrivare allo scontro su sociale e scuola servirebbe un confronto lo dichiara Alessia Cognetti esponente del PD di Teramo Centro che replica Romanelli e alle accuse rivolte alla regione per l'assenza di fondi sugli assidi nido che hanno costretto il comune di Teramo a lasciare i plessi chiusi durante le prossime feste di Natale. Sentiamo. Il circolo di Teramo Centro del Partito Democratico di Teramo attacca l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Teramo Piero Romanelli che ha deciso di chiudere gli asili nido della città per il periodo natalizio a causa della mancanza dei fondi regionali per gli asili nido. Il PD di Teramo Centro chiede un diverso piano di dibattito politico soprattutto su tematiche quali quelle del sociale. Molti genitori sono stati allarmati appunto da questa sua uscita giornalistica uscita giornalistica dove appunto si alzava il dito specificatamente contro la regione. Quello che probabilmente però non è stato specificato è che molti di questi fondi sono di provenienza statale e che per quanto riguarda la maggior parte dei fondi da attribuire al comune di Teramo di provenienza appunto sia statale che regionale sono stati regolarmente posti in essere. Ora voglio ribadire una cosa che probabilmente sfugge ultimamente soprattutto al centro-destra comunale che il consiglio regionale la giunta regionale è lì da circa un anno. quindi molti dei fondi molte delle elargezioni vengono dal passato aggiunta. Ora questa sindrome di Cenerentro del comune di Teramo rispetto alla regione che loro cercano di porre in essere probabilmente è una sindrome di Cenerentro che trova le sue ragioni nella passata aggiunta di centro-destra. I fondi la regione li avrebbe stanziate? I fondi che fanno parte della famosa legge sugli asili nido? Per gli anni 2014-2015 ora si dovrà provvedere alle istanze degli anni futuri. Una cosa che mi pare di sottolineare è questa se il comune ha delle difficoltà in una problematica importante con quelle sociali che va dai disabili fino ai bambini io penso che prima di attaccare in quel modo un amministratore regionale si possa cercare un dialogo nel senso che magari si possono trovare soluzioni alternative il disagio è grandissimo per tutti quei genitori che nonostante ci siano le cosiddette vacanze di Natale ma rappresentano solo per le scuole perché poi continuano a lavorare e quindi hanno problematiche nei confronti dei bambini per cui prima di passare su questo tipo di polemica e di polemica politica su tematiche importanti come quelle sociali probabilmente bisognerebbe cercare un contatto diretto con l'interessata Cambio al vertice della Polizia Stradale di Teramo da oggi la dottoressa Lara Panella ha lasciato l'incarico di dirigente per trasferirsi a Roma dove dovrebbe assumere un prestigioso ruolo in seno all'organizzazione dipartimentale della Polizia Stradale al momento agli interni non è stato ancora designato il sostituto in attesa delle nomine ministeriali dei funzionari in ambito nazionale la sede di Teramo che coordina le attività anche delle sezioni di Pineto e Giulianova è affidata adesso al comando del sostituto commissario di Polizia Antonio Bernardi vice comandante con esperienza ultra decennale nell'ambito della specialità della Polizia Stradale con particolare riferimento all'infortunistica stradale poco più di un mese al Natale ma per un giocatore di Teramo le feste sono arrivate in anticipo nel concorso Super Enalotto di ieri è stato infatti centrato un 5 da 94 mila euro la schedina è stata giocata nella tabaccheria Vittorini di via Vittorio Veneto si tratta della seconda vincita più alta centrata in Abruzzo da inizio 2015 alle spalle dei 188 mila euro centrate a Pineto lo scorso 23 settembre sempre con un 5 per il prossimo appuntamento il 6 mette in palio 27,6 milioni di euro in Abruzzo il colpo grosso manca dal 2012 quando il 30 agosto ad Avezzano vennero centrati 12,3 milioni di euro di vincita non c'è pace per i corsi d'acqua a Teramani in tempo di raccolta delle olive altri attentati al fiume Tordino e al suo affluente il torrente fiumicino l'allarme del WWF che denuncia l'inquinamento da reflui di Frantoio l'acqua e il fondo sono colorati di nero nella zona di San Nicolò il servizio un nuovo attentato ai fiumi Teramani è quello che segnala il WWF di Teramo che ha inviato una segnalazione al corpo forestale dello Stato nella quale si evidenziano due gravi episodi di inquinamento uno nel fiume Tordino e un altro che riguarda un suo affluente il torrente fiumicino le acque il fondo del fiume Tordino appaiono completamente neri a valle del ponte della strada provinciale San Nicolò Castellalto Canzano stesso stato per il torrente fiumicino nel tratto a valle del ponte della ferrovia poco a monte della confluenza nel fiume Tordino ad un primo esame il tratto alterato sembra iniziare sul fiumicino per poi trasferirsi al Tordino dopo la confluenza tra i due corsi d'acqua per l'ennesima volta dobbiamo segnalare episodi di inquinamento dei nostri corsi d'acqua ha detto Claudio Calisti presidente del WWF di Teramo sulla base di casi analoghi degli anni precedenti dovrebbero essere scarichi illegali di sostanze derivanti da attività di frantoi l'acqua e il fondo dei due corsi d'acqua sono di colore nero si deve intervenire subito per verificare cosa è successo e bloccare questi comportamenti da irresponsabili chi fa queste cose ricorda Calisti oltre a commettere un reato perché danneggia l'ecosistema fluviale determina un danno all'economia di tutta la provincia di Teramo è inutile dall'inizio dell'estate disperarsi perché il mare non è balneabile e i turisti scappano se non si fa qualcosa per fermare queste situazioni sui fiumi gli imprenditori onesti dovrebbero essere i primi a chiedere una seria politica di controlli e repressione di tali comportamenti illeciti questa mattina in provincia a Teramo si è riunito il consiglio di amministrazione dell'area marina protetta del Cerrano tra i problemi affrontati quello del regolamento esecutivo che non è ancora stato attuato perché giacente presso il ministero dell'ambiente il neopresidente Cantarini assicura che si sta lavorando per attuarlo prima della prossima estate intanto proseguono le polemiche con l'ex presidente Benigno Dorazio Leone Cantarini è il nuovo presidente dell'area marina protetta del Cerrano la nuova governance si è insediata a fine di settembre poi siete stati investiti da una serie di ricorsi presentati dall'ex commissario Benigno Dorazio ma voi siete andati avanti lo stesso Sì la nostra attività subito si è caratterizzata nella direzione di mettere in sicurezza lente infatti il primo atto è stato il reintegro nelle funzioni di direttore del dottor Fabio Vallarola che era stato licenziato al mattino e dopodiché abbiamo iniziato a lavorare sulla miriade di problemi piccoli e grandi che comunque erano sul tappeto Che situazione ha trovato? Sicuramente l'AMP con questa figura importante che è il direttore ha una sua strada abbastanza tracciata anche se ripeto problemi grandi come ad esempio il regolamento esecutivo che è ancora giacente presso il Ministero dell'Ambiente non ha ancora attuato quindi va sicuramente preso e calato nella realtà dell'area marina protetta lo stiamo facendo e pensiamo che prima dell'estate sarà attuato inoltre c'è il problema anche di tutela per quando riguarda il mare quindi il problema dell'evongolare che comunque continua nonostante il divieto a entrare abusivamente nell'area quindi di concerto con la capitaneria di Porto stiamo cercando che questo fenomeno non vi sia più ecco l'ultima polemica in ordine di tempo con l'ex commissario Dorazio è legata ai conti di Cerrano Trade secondo voi sarebbero in rosso secondo l'ex commissario invece no purtroppo i debiti c'erano ed erano solo mascherati c'è una revoca è ufficiale di una PEC dell'Abruzzo Sviluppo che chiaramente revoca un finanziamento per rendicontazione irregolare quindi per un progetto di rete chiamato Blu Data dove oltre alla Cerrano 13 erano altre cinque società di cui una della famiglia dell'ex commissario quindi questa revoca lui non poteva non sapere chiaramente questo significa uno scoperto di una somma importante con alcune banche è una restituzione del contributo quindi oggi la situazione è questa ci auguriamo che magari in futuro possa cambiare ma oggi è questa Condividere una visione partecipata dell'elaborazione dei principali atti regionali è stata presentata all'Aquila la consultazione pubblica una piattaforma online gestita dal Formez vediamo L'Abruzzo è la prima regione d'Italia a sperimentare per la legge sulla partecipazione democratica una piattaforma online gestita dal Formez dove si possono dare suggerimenti avanzare proposte e fare commenti al testo di legge l'obiettivo è quello di coinvolgere i soggetti sociali organizzati in forme democratiche nell'elaborazione e nella formazione delle politiche regionali come ha spiegato il sottosegretario regionale Mario Mazzocca l'intento è quello di rendere questa attività della partecipazione realmente attiva oltre che allargata allargarla non ci vuole molto è importante coinvolgere soprattutto saper coinvolgere i portatori di interesse generale della nostra regione per ora in che cosa? appunto dei processi non solo legislativi ma anche normativi che sono di interesse e competenza dell'elogio di Abruzzo noi abbiamo previsto sostanzialmente due modalità di partecipazione una modalità mediante le consulte tematiche che è quella forse più utilizzata quindi mediante sostanzialmente assemblee pubbliche da organizzarsi volta per volta a seconda dell'iniziativa che si sta adottando ed una modalità più 2.0 e cioè mediante una piattaforma telematica gestita dalla regione attraverso il proprio sito attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e ci auguriamo che entrambe integrandosi vicendevolmente vadano a coprire tutta l'utenza anche quella che non dispone di strumenti informatici idonei per poter partecipare a questo processo di formazione entro l'estate sarà completata la pista Bike to Coast che collegherà Pineto alle cittadine confinanti Silvi e Scerne sono stati intanto affidati i lavori per realizzare un altro tratto di pista che collegherà l'uscita autostradale dell'A14 Pineto Atri con il centro di Pineto vediamo la città di Pineto punta sulle piste ciclabili una è già stata realizzata un'altra è stata appaltata e un'altra partirà a breve sì sono diversi anni che la città di Pineto punta sulla pianificazione sostenibile della mobilità su territorio in particolar modo guardando ai percorsi ciclo pedonali alcuni anni fa è stato realizzato un primo importante tratto di alcuni chilometri lungo la costa oggi abbiamo completato quel percorso con l'appalto quindi il completamento del Bike to Coast il circuito diciamo costiero che traccerà un po' tutta la costa adriatica e abbiamo pubblicato il bando il 3 di dicembre scade il bando quindi verosimilmente nei primi mesi del 2016 saranno iniziati i lavori e quindi pensiamo per l'estate di riuscire a completarne una buona parte che tipo di lavori saranno? allora andremo a completare alcuni tratti che mancano proprio lungo la costa quindi in Pineta arriveremo fino alla torre per raggiungere la città di Silvi così come completeremo il tratto a nord per raggiungere Scerni in attesa risulta che la provincia abbia anche appaltato recentemente il ponte sul fiume Vomano e quindi sarà una grande occasione non solo dal punto di vista della sicurezza quindi la mobilità intesa come semplice passeggiata in bici ma anche una questione sociale perché andiamo ad unire territori in questi giorni inoltre abbiamo già affidato invece un altro importante tratto di pista ciclabile che collegherà la zona uscita autostradale a 14 di Pineto Atri quindi nella frazione di Borgo Santa Maria il centro sportivo fino al centro di Pineto i lavori sono già stati affidati e crediamo ecco una decina di giorni di poter vedere gli operatori gli operai le ruspe come si dice ora al lavoro ecco questo sarà un appuntamento importante atteso da anni da parte dei cittadini di una zona che difficilmente possa raggiungere il centro in sicurezza se non in auto Ennesimo episodio di inciviltà questa mattina in centro a Teramo nei pressi del varco di Via Erelli dove il parcheggio selvaggio di un'autovettura ha impedito per oltre un quarto d'ora il transito all'autobus urbano diretto all'ospedale civile come vedete a nulla sono valse le faticose manovre tentate dal conducente a bordo dell'autobus della linea 2 il mezzo è riuscito a passare solo un quarto d'ora dopo quando l'automobilista indisciplinato finite le sue commissioni è tornato a riprendere la sua auto e così anche il traffico si è potuto sbloccare un episodio che fortunatamente si è risolto in breve tempo anche se dispiace constatare che l'inciviltà si ripete e spesso si rende necessario l'intervento dei vigili urbani al centro Cairos di Teramo prende forma il progetto della palestra dell'innovazione che ha permesso di attivare corsi sul funzionamento di una stampante 3D per formare i giovani e dotarli di conoscenze all'avanguardia che li mettano in grado di competere con le sfide del mondo del lavoro il servizio Ilaria Graziano della Fondazione Digitale Roma avete istruito dei corsi qui al centro Cairos di Teramo per traghettare i giovani nel mondo della digitalizzazione qual è il progetto che state portando avanti? Allora noi con il centro Cairos di Teramo stiamo portando avanti il progetto della palestra dell'innovazione siamo fieri di poter dire che il centro Cairos ha inaugurato oggi la terza palestra dell'innovazione in Italia la prima palestra è nata appunto nella nostra sede a Roma e la palestra dell'innovazione è un ambiente sia fisico che virtuale per l'apprendimento esperienziale quindi è un insieme di spazi che sono aperti alle scuole al territorio e ai cittadini comuni dedicati alla pratica dell'innovazione in tutte le sue forme quindi innovazione tecnologica ma in senso sociale e in senso civico dedicata all'inclusione sociale e alla possibilità di attrezzare sia i giovani che i cittadini all'acquisizione delle competenze chiave indispensabili per vivere e lavorare nel ventunesimo secolo Almerindo Capuani socio del Cairos e docente quali sono gli sviluppi concreti di questa stampante digitale e quando partiranno i corsi? Allora partiamo dall'ultimo perché poi l'altro è più lungo allora noi i corsi li cominciamo subito il 30 30 di novembre ci aspettiamo quindi fatelo sapere giovani adulti vecchi operai non operai che vogliono almeno cominciare a toccare con mano che cos'è una stampante 3D e cosa ovviamente gli offre soprattutto poi tutto il laboratorio perché cosa può fare una stampante 3D? Diciamo la prima cosa che viene in mente è che può realizzare l'idea che uno ha quindi se a me mi si rompono gli occhiali acquistati qualche anno fa e li ho pagati diciamo 800 euro non ritrovo la stanchetta dell'occhiale allora vengo qui e la rifaccio tale e quale come ce l'avevo prima questa adesso era una battuta per far capire l'importanza però se è un'idea e voglio vedere se quest'idea è un brevetto che posso realizzare se oggi vado in un'azienda mi chiedono no noi dobbiamo fare 10.000 non possiamo fare un prototipo con la stampante 3D io riesco a fare il prototipo e mi rendo conto delle problematiche che ho nel realizzarlo e quindi posso andare avanti o posso smettere se vado avanti e sono un giovane avrò i soldi dal governo dal ministero si chiama in realtà Missi il ministero dello sviluppo posso aprire una start up un docu video che ci guida alla scoperta dei percorsi all'interno della biblioteca provinciale delfico di Teramo i protagonisti sono i bambini e i destinatari del piccolo film sono i loro coetanei vediamo vedete questo enorme palazzo? qui è ospitata la biblioteca provinciale Melchiorre delfico nel cartellone delle iniziative della biblioteca provinciale delfico di Teramo vola alto incontriamoci in biblioteca è stato presentato alle scuole teramane il docu video piccola guida alla biblioteca girato dal regista teramano Marco Chiarini anche grazie al contributo dell'associazione amici della delfico il docu video ha per protagonisti i giovanissimi utenti che diventano delle vere e proprie guide spiegando ai loro coetanei i possibili percorsi all'interno della biblioteca provinciale delfico una parola strana cosa significa? raccolta di giornali e riviste nella nostra biblioteca trovi tantissime riviste più di 5.600 attraverso le immagini la testimonianza diretta e immediata dei bambini il lavoro si rivolge alla fascia scolastica della primaria e della secondaria di primo grado la biblioteca delfico viene così comunicata come un luogo da visitare e da scoprire ricco di testimonianze e di storie abbiamo il Corriere della Sera del 1915 circa 100 anni fa si parlerà di Asle Unica in Abruzzo ma anche dei riflessi politici in casa centrosinistra dopo la visita del governatore D'Alfonso Attermo e le dichiarazioni forti del presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino questa sera nella puntata di App il settimanale di approfondimento di tre ponte condotto dal nostro direttore Roberto Almonti ospiti in studio il vicepresidente della regione consigliere regionale di Forza Italia Paolo Gatti e il capogruppo del partito democratico in consiglio regionale Sandro Mariani adesso prima della pagina sportiva le previsioni del tempo per la giornata di domani con Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo al mattino un nuvoloso con deboli piogge sulle aree montane nuvoloso sulle aree litorane e colinari nel pomeriggio un nuvoloso con deboli piogge sulle zone appenniniche coperto sulle zone interne e sui rilievi nuvoloso sulle zone marittime quota neve sui 2650 metri temperature stazionarie massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conchie aquilane e marsicane tra 23 e 26 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati sud occidentali mari quasi calmi in provincia di Teramo al mattino coperto sulle zone colinarie e montane variabile sulle zone litorane nel pomeriggio un nuvoloso con deboli piogge sui settori appenninici coperto sui settori costieri nevicati al di sopra di 2850 metri tra sera e notte coperto con pioggia moderata sulle aree interne e sui rilievi variabile sulle aree marittime quota neve sui 2850 metri temperature stazionarie massime comprese tra 18 e 21 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 20 e 23 gradi sulle coste venti moderati sud occidentali mari quasi calmi poco mossi tutto pronto in casa Teramo Calcio per la trasferta di Rimini in programma domani per i bianco-rossi quella del Romeo Neri sarà una sfida importante in chiave salvezza per l'occasione mister Vivarini dovrà fare a meno di speranza infortunato e di perrotta e altobello squalificati recupera invece Brugaletta che partirà regolarmente con il resto della squadra in servizio tutto pronto in casa Teramo per l'impegno di domani a Rimini un match fondamentale soprattutto per il diavolo chiamata a riscattare le recenti delusioni arrivate in campionato Luciano Campitelli in settimana è stato chiaro e ha suonato la carica lui in campo vuole vedere il 4-3-3 ma soprattutto una squadra capace di raccogliere sei punti nelle prossime due gare il tecnico Vivarini comunque dimostra di non subire troppo la pressione data dalle parole del presidente Teramano l'ha visto già l'Aquila è un sistema di gioco che ci stiamo lavorando chiaro che ripeto con le qualità e le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo per forza di cosa dobbiamo lavorare a tre davanti quindi il presidente non è che vuole il 4-3-3 il presidente vuole come me una squadra che vince questa è la cosa che che è importante vuole un atteggiamento giusto dalla squadra vuole diciamo il bello vuole far spettacolo che è la cosa che vogliamo tutti insomma sotto la gestione Malavolta Rimini Teramo è sempre stato un appuntamento fondamentale in chiave privato visto che le due squadre erano sempre in lotta tra di loro per un posto al sole quest'anno invece anche a differenza di quelle che erano le aspettative della vigilia al Romeo Neri si giocherà una sfida salvezza lo ribadisce lo stesso Vivarini noi in questo momento qui dovremmo diciamo non essere così esasperati però la realtà della classifica è questa qui quindi è chiaro che è uno scontro salvezza però nemmeno ci dobbiamo far venire diciamo quella paura quella perché comunque se vai a vedere i punti li abbiamo fatti quindi noi magari adesso abbiamo un'altra classifica quindi i valori ce li abbiamo per poter arrivare a risalire un pochettino la situazione questa mattina si sono svolti i sorteggi per le gare valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Lega Pro il Teramo giocherà contro la Casertana mercoledì 16 dicembre in casa allo stadio Bonolis di Piano Daccio non ancora fissato l'orario d'inizio del match la vincente di Teramo Casertana sfiderà la vincente di Ancona Siena quest'ultima gara programmata al Del Conero per il prossimo 9 dicembre pallacanestro in serie C-Silver si è giocato il secondo turno infrasettimanale previsto dal calendario nessuna novità in vetta alla classifica con l'Airino Termoli che ha mantenuto l'imbattibilità vincendo anche lo scontro diretto al cospetto della terza forza del torneo il Sulmona bene anche le due Teramani il BT15 ha espugnato il Palabor Gognoni di Campli battendo a domicilio il Nova Campli per 51-95 il basketball Teramo invece ha conquistato il suo quinto successo di fila regolando per 77-61 il San Salvo chiudiamo con la palla a mano in serie A1 femminile domani si torna in campo per disputare l'ultima giornata di andata turno particolarmente insidioso per le due squadre Teramani del Girone la Gommeur Team Teramo al Palla Giorgio Binki ospita il Cassano Magnago dell'ex Daniela Dovesi in una sfida dal sapore dei playoff impegno esterno invece per la Globo Almax Bioapta di scena sul parchè delle Padovane del Mestrino a proposito di questi impegni ascoltiamo Coni Bergallo della Gommeur e Alessia Di Lorenzo della Globo Coni Bergallo è arrivata una vittoria nel derby ovviamente soddisfatta Certo sì è sempre importante portare i tre punti a casa soprattutto in un derby ma credo che abbiamo fatto vedere al pubblico terra a mano la nostra voglia di vincere e di fare bene sempre le cose Qual è stata l'arma in più con la quale avete vinto questo derby? Io penso che si è visto che la nostra squadra sempre gioca in squadra soprattutto per noi è sempre la cosa più importante giocare in squadra e fare tutto insieme se una sbaglia sbagliamo tutte se una fa bene facciamo bene tutte Si può già iniziare a pensare ai playoff? Beh ancora manca molto ma sicuramente far vedere che facciamo bene le cose sarà un bel successo Con la testa però Sitelli nel senso l'obiettivo se continuate così è quello? Sì certo è una squadra giovane ma gli obiettivi sempre sono far bene quindi se facciamo bene le cose sicuramente più avanti daremo qualche sorpresa Ora prossimo impegno con il Cassano partita difficile Sì certo Cassano sta come noi terze quindi sarà una partita tosta ma come ti ho detto prima noi dobbiamo cercare di giocare insieme e far bene le cose e finire questa prima fase in miglior dei modi Alessi Di Lorenzo sei una delle facce nuove di questa di questa nuova HF Teramo come mai la scelta di venire proprio qui? In realtà mi ha chiamato una mia amica una compagnia di squadra LOR giocavamo a conversare insieme e io ero firmo non volevo giocare più il Teramo aveva questo problema che non aveva il pivot e ti ho mai chiamato Che impressione ti ha fatto il derby? Siamo state un po' sfortunate è stata una partita tosta noi dobbiamo migliorare molto la difesa siamo troppo non siamo non siamo aggressive loro erano molto aggressive volevano vincere se alla fine hanno vinto prossima gara contro il mestrino che tipo di gara sarà? Dobbiamo vincere dobbiamo vincere assolutamente ci servono i punti e vinceremo bene è tutto questa sera non perdete alle 21 l'appuntamento con app il nostro settimana di attualità e domattina ci possiamo dare appuntamento alle 7 invece a prima di tutto grazie è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti